buon pomeriggio dal campo del vittoria ives salutiamo tutte le signore e tutti i signori presenti sul nostro canale per assistere a questa gara amichevole della categoria 2001 si incontrano i bianco blu bande verticale del vittoria ives 2001 allievi fascia b e il salus maglia azzurra tipo sandoria giornata fantastica per giocare a calcio treni in ottime condizioni leggermente bagnato ma perfetto un tavolo da da biliardo potremmo definirlo vives attacca da destra verso sinistra e il salus da sinistra verso destra gara amichevole siamo qua in via veronese questo 26 novembre 2016 come sempre anche in questa gara amichevole un divertimento che vinca lo sport ragione 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 favorito saluso 0-0, primo tempo, minuto 4, era amichevole, bello il cross, bello, libera la difesa del riveste, tiro, pericolo, minuto 5, pallo in attacco, in difesa, cominciano dalla destra, 0-0, primo tempo, allievi fascia B2001, bello, pallo del difensore del Salus, minuto 7, 0-0, vedo i Buongiorno a tutti. 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 fuori. Buongiorno a tutti. 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 calcio. Buongiorno a tutti. 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 niente da fare minuto 18 uh palla fuori uh grande portiere numero 12 appena entrato parata grandiosa minuto 21 sempre 4 a 1 gara sempre bella uh fuori un pelo ventunesimo vai 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 bello 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 niente ventiduesimo guarda qua qua cambia bello bello uh legno palo 24esimo tutto bello 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 spizzicata spizzicata parte numero 17 uh che bella azione fuori venticincuesimo l'uomo 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 bravo 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 l'uomo 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 numero 9 quindi rigore minuto 32 bello che rigore ha battuto bene sulla sinistra del portiere 4 a 2 e quindi 4 a 2 siamo al minuto 33 gara amichevole tra i bianco blu bande verticali del Livest e gli azzurri del Salus 26 novembre 2016 gara amichevole che è poco amichevole in campo ma per fortuna nulla di particolare il giusto organismo che ci deve essere nella gara di calcio indiretta il pallone che esce fuori allievi fascia B 2001 allievi primo anno entrambe che disputeranno la seconda fase dei provinciali un minuto 34 4 a 2 per l'Iverst fuori gioco netto si prosegue si prosegue minuto 35 bella portiere bella di via in calcio d'angolo bella parata ancora del portiere di piede portiere numero 12 mamma mia che carambola portiere numero 12 si sta comprando bene in questi ultimi in questi ultimi 5 minuti più recupero molti cambi cambi a rotazione tipo basket in questa amichevole sono siamo qua in via veronese vediamo sul numero 9 riadrizza ancora di tutta la gara niente quali che cazzo fai vada 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 I miei compri della sera scendono sul campo di Leveronese Bella portiere Trentasettesimo Palla persa Falcio d'angolo dalla sinistra 4 a 2 al secondo tempo Il secondo tempo si era concluso sul 4 a 0 Quindi il Salus Ha fatto due gol nel secondo tempo No no laterale dice l'arbitro Minuto 38 Fuorigioco Fuorigioco di rientro Oh grande portiere Bravo portiere numero 12 del Salus Para tutto Bella azione Bella parata Minuto 39 Siamo alle battute finali di questa gara amichevole Parziale per adesso 4 a 2 al secondo tempo Gara amichevole 2001 Allevi fascia B 2001 Due squadre che disputeranno la fase provinciale Ricordiamo che Ha esistito una gara amichevole Bella 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 Ma di amichevole c'era poco sul campo Comunque sempre nella regola Lo badiamo sempre Non Non ci sono stati i momenti Accesi Bella 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 Fuori Gioco di un pelo Forse Vediamo un po' La difesa recupera Bravo E termina la gara Ivest 4 salus 2 Alla prossima Vittoria Ivest Grazie a tutti